E do subito il benvenuto al nuovo ospite in Voce delle Chiese, Giovanni D'Ambrosio. Buongiorno Giovanni, bentornato anche nel tuo caso, ci siamo già sentiti, abbiamo già avuto modo di chiacchierare in più di un'occasione. Ciao, bentornato, bentornato sulle frequenze di RBA e in particolare in Voce delle Chiese. Non ultimo ce l'avamo visti al Salone del Libro, a Torino, in cui avevi presentato e raccontato questo progetto dei libri No Borders Books. Inseriti sempre, rimaniamo, oggi dirichiamo un po' la puntata a questo tema, l'abbiamo detto prima, lo ripetiamo, se qualcuno si fosse collegato solo adesso, al progetto MH, ai progetti anzi di MH Mediterraneo Hope delle Chiese Evangeliche in Italia. Giovanni tu sei operatore, insomma, da anni, prima Lampedusa e adesso invece ti sei spostato sulle zone del Piemonte, verso nord, spieghiamo anche il perché. E poi magari tu ci racconti anche, insomma, il tuo percorso. In Piemonte è recente la notizia che è stato firmato il primo contratto per il primo appartamento destinato appunto a Braccianti, vicino a Verzuolo, nel Saluzzese, all'interno proprio del progetto Programma Rifugiati Immigranti di MH. È un progetto che peraltro prende il via da un'esperienza precedente. Prima parlavamo della narrazione, eccolo qua, la D di D'Ambesso, ovvero l'ostello che è già stato creato in Calabria, dedicato proprio all'accoglienza di persone che lavorano come stagionali nella raccolta frutta e verdura in varie parti d'Italia, in questo caso D'Ambesso, appunto, in Calabria, ma anche in Piemonte. La realtà dei lavoratori stagionali è molto presente, soprattutto nelle zone del Saluzzese. Raccontaggi un po' la genesi di questa nuova branca, un nuovo ramo dello stesso servizio, praticamente. Ma diciamo che può essere che tutto sia partito, tutto è partito un po' dall'ascolto in realtà delle esigenze dei lavoratori stagionali che erano ospiti all'interno dello stello sociale D'Ambesso di San Ferdinando, che ormai è attivo da circa due anni, ospita una quarantina di persone, sono aperti altri due appartamenti, sempre nella zona della piana di Gioia Tauro. Quindi tutto nasce un po' dall'incontro tra gli operatori e le operatrici che erano presenti giù all'ostello e i lavoratori stagionali che hanno espresso in qualche modo, hanno fatto una domanda, nel senso noi lavoriamo qua, stiamo bene, siamo all'interno dello stello. Alla fine la stagione della raccolta delle arance, degli agrumi, ci spostiamo, alcuni di noi si sposteranno verso Saluzzo. La stagione della raccolta della frutta, infatti, tra la piana di Gioia Tauro e la piana del Saluzzese è pressoché complementare. Nel senso, una parte da ottobre-novembre, finisce l'aprile-maggio e viceversa, l'altra inizia verso aprile-maggio e finisce verso novembre-dicembre. Quindi diciamo che l'esigenza è nata un po' da loro, da questa appunto forza lavoro mobile che si sposta continuamente. Pochi giorni fa, no, qualche settimana fa ero a Saluzzo in questo parco dove le persone dormono all'aperto, ci sono decine di persone che dormono lì all'aperto, soprattutto ad agosto e alcuni di loro arrivavano da Foggia. Erano appena arrivati, erano prima a lavorare nelle campagne del Foggiano, nella raccolta dei pomodori e adesso siamo spostati a Saluzzo per lavorare lì. Quindi il fatto che la richiesta sia arrivata appunto da lavoratori che comunque già vi conoscevano e che voi conoscevate dimostra il fatto che intanto il servizio funziona, era necessario e poi è necessario replicarlo. Cioè la buona pratica, l'idea è un po' quella di poterla replicare situandola in altre zone d'Italia dove appunto la presenza di lavoratori stagionali è attiva. Sì, diciamo che ci sono due cose secondo me molto importanti. Da una parte c'è la questione abitativa, che sembra scontato forse per noi che abbiamo una casa in cui ripararci tutte le sere, tutti i giorni, però non avere una casa influisce su tutto il resto della tua vita quotidiana, quindi non avere una casa non ti permette di avere una stabilità che riguarda anche la sfera personale, lavorativa, psicologica. Invece avere un tetto sopra la testa ti aiuta a pensare, a stare calmo, ad avere la tua quotidianità e a ragionare anche sul futuro, a fare dei progetti, a pensare al resto della tua vita. Quindi prima di tutto emerge questa considerazione da cui nasce il progetto dello stello sociale d'Ambeso a San Ferdinando, da questa sicurezza che dare dignità attraverso la casa permette alle persone di proiettarsi anche nel futuro della propria vita e non pensarsi soltanto nel presente, nell'immediatezza del devo lavorare, devo mandare soldi a casa, devo... no? Sì, 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 sì. Dall'altra c'è un'altra considerazione, è una forza lavoro mobile che si sposta continuamente, che ha un'enorme difficoltà tra l'altro a trovare casa appunto per il fatto di essere razzializzata e per essere discriminata quindi, per il colore della pelle, per la provenienza. Sì, mi raccontavi prima fuori onda Giovanni che in certi casi appunto avete avuto l'esperienza di persone che avevano la possibilità di pagarsi un affitto ma non hanno trovato nessuno che desse loro la possibilità insomma di avere una regolarità ecco nell'usufruire di un luogo dove potersi appunto andare a riparare, riposare, una casa. Certo, sono lavoratori quindi hanno i soldi, cioè si possono permettere di prendere una casa in affitto. Però il pregiudizio, la diffidenza, lo stesso mercato immobiliare non dà accesso a questo servizio. E le risposte che vengono date in qualche modo nella Piana del Saluzzese riguardano l'emergenza, riguardano quel momento lì della raccolta in cui c'è tantissima gente e quindi devono sistemare le persone però non sono risposte diciamo sul lungo termine. Nel piccolo, nel nostro piccolo, perché adesso stiamo parlando di un appartamento solo. Sì, dove esattamente? Vicino a Verzuolo. Sì, vicino a Verzuolo. Nel nostro piccolo l'idea è quella invece di assecondare questo movimento delle persone dando loro la possibilità di avere un tetto sopra la testa che quindi è una casa che affittiamo noi. Non siamo solo garanti di un affitto che pagano loro ma in qualche modo facciamo da intermediari e prendiamo direttamente noi l'affitto della casa e chiediamo alle persone ospiti degli appartamenti un contributo spese di 3 euro al giorno, quindi 90 euro al mese. In questo modo cerchiamo di superare un po' quella barriera del mercato privato, delle locazioni e di dare casa alle persone. Quindi diciamo che sono queste due cose, da una parte la dignità tramite la casa e dall'altro la secondare, questa mobilità, queste persone che si spostano da una parte all'altra Italia, da Saluzzo a Latina, alla Piana di Gioia Tauro, a Foggia, ma non solo, in realtà anche abbiamo avuto... Centro Italia, immagino... Esiste agricoltura, esiste persone che ci fanno lavorare. Quindi togliere un po' anche questa sfera di precarietà che comunque c'è e dare invece un po' più di stabilità, un po' più di sicurezza a questo lavoro. Esatto, quando finisce una persona di lavorare a Rosarno e vuole spostarsi a Saluzzo, sa che in qualche modo esiste la stessa sistemazione, la stessa organizzazione, le stesse regole, le stesse... Non so, in qualche modo questo, nonostante la mobilità rimanga, ovviamente, la precarietà rimanga, però ti dà una certa sicurezza. Almeno hai una casa, esatto. Hai un posto dove sai che puoi andare, dove c'è casa, diciamo. Sì, bello, molto bello e tra l'altro io direi che possiamo anche lanciare un appello, perché adesso il progetto è in costruzione, cioè siete proprio agli esordi, è partito ad aprile, se non sbaglio, e si sta concretizzando proprio adesso, insomma. state sistemando l'appartamento e poi mano a mano entreranno le varie persone. Quindi, insomma, è tutto in evoluzione ancora, chiaramente in costruzione. Però, se qualcuno avesse piacere di collaborare, penso si possa fare, anche come associazioni, enti del territorio. Assolutamente, sì. Sì, intanto, venerdì entra la prima persona a casa, siamo molto contenti e contenti di questa cosa. E poi, chiaramente, lanciamo questa appella, se qualcuno volesse in qualche modo, se sapesse di qualcuno che è affitta a casa, sarebbe fenomenale, che è molto difficile. Abbiamo incontrato un territorio, comunque, molto attivo, molto accogliente, molto consapevole, una società civile molto interessante, molto interessata anche a conoscere persone che arrivano da fuori, che non è scontato, come noi che appunto ci spostiamo da... I presupposti sono buoni, sono positivi. Esatto, no, è molto interessante, siamo contenti. Allora, auguri di buon lavoro per questo progetto specifico che avete da poco avviato. In realtà, ti trattengo ancora un attimo, perché in occasione di dieci anni di MH, ti sei così anche dilettato, proprio tu in modo particolare, nella realizzazione di un podcast che è già iniziato a circolare, ma so che ci sono altre puntate che arriveranno. Sì, allora, l'idea è, vabbè, a punti di un confine, che è questo podcast fatto appunto per dieci anni di Mediterranea NOP, nasce appunto con l'idea un po' di raccontare la storia di MH, di raccontare anche le persone che ne fanno parte e, in qualche modo, di costituire una sorta di diario. Cioè, noi come operatori e operatrici del progetto lavoriamo appunto in diverse frontiere d'Europa, non solo, e incontriamo tantissime persone, incrociamo tantissime storie diverse e, cioè, l'idea, un po' che è stato tanto tempo in realtà, era di cercare di fermarle, fermare un po' di queste storie, questi pezzetti di storie e costituire una sorta di diario audio dove poterle, dove poterle mettere. Per adesso sono uscite le prime tre puntate che raccontano Lampedusa, sì. L'idea è quella di provare a continuarlo e di raccontare anche tutte le altre esperienze, ma non soltanto dal punto di vista professionale, cioè proprio provare a raccontare le persone, i beneficiari, le beneficiari che ne hanno, in qualche modo... Le loro vite, le loro aspirazioni, come dicevamo prima, insomma, il loro percorso. Quindi sì, vediamo. Dove si può guardare questo podcast? Allora, sicuramente sul sito del NEV e poi su Spotify. Benissimo. A punti di un confine, quindi il podcast che Giovanni D'Ambrosio sta realizzando. Trovate già le prime tre puntate dedicate a Lampedusa per ricordare anche in questa maniera multimediale i dieci anni di MH di Mediterranean Hope. Grazie Giovanni, buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi e colleghe. Grazie ancora.